Noi abbiamo una compagine di professori d'orchestra che si sono in qualche modo contaminati nella zona sud dell'Italia perché solo qui avvengono queste meravigliose contaminazioni. Loro espressamente credo che Salerno sia stato il punto di incontro, di maturazione di questo progetto. Noi li abbiamo catturati, sono con noi da poco tempo, ma credo che prima che ritrovino la strada di casa gli c'è ora parecchio tempo. Grandi, grandi! Orgoglio Salerno sul palco con Renato Zero che a Napoli ringrazia pubblicamente la Reiki Symphony Orchestra, un progetto artistico nato dal desiderio di creare una compagine di musicisti capace di essere riferimento nel panorama delle grandi produzioni concertistiche legate al gota del pop, jazz italiano ed internazionale. Con una punta d'orgoglio il liceo salernitano Alfano I annovera in questa compagine i maestri Antonio Rufo, Marco Cuciniello e Giuseppe Vetere ed una nutrita rappresentanza di ex alunni nella sezione archi, giovani emergenti di grande valore. Grande musica con un omaggio alla tradizione campana, quella di zero, mentre scorrono i loro nomi esaltandone le capacità a protagonisti indiscussi di serate straordinarie con uno dei più grandi artisti italiani. Grazie a tutti!